18 ottobre si riunisce di nuovo il vertice europeo dei capi di Stato e di Governo. Sarà un'occasione per rilanciare la Tobin Tax? È vero che il Governo italiano sta frenando? Credo che sia abbastanza imbarazzante l'atteggiamento del Governo italiano su un tema di rimente che ha a che fare con la qualità delle politiche economiche, con la volontà di contrastare seriamente la crisi. La Tobin Tax, cioè la tassazione sulle rendite finanziarie, è un obiettivo di civiltà ed è un obiettivo che ha a che fare con quella necessaria risurrezione della giustizia sociale. Se noi vogliamo liberare da un eccesso di prelievo fiscale il mondo del lavoro e il mondo delle piccole e grandi imprese, abbiamo bisogno di indicare il salvadanaio che è necessario rompere per alimentare le politiche pubbliche. Io penso che oggi il nostro sguardo debba rivolgersi all'area dei privilegi, alla rendita finanziaria, alla grande ricchezza immobiliare. E' lo sguardo che il Governo Monti con grande fatica riesce a distogliere da quel ceto medio, da quei ceti popolari su cui si è intervenuti anche infierendo con provvedimenti segnati da una formidabile iniquità sociale. E allora lo chiedo al Partito Democratico, ma può il Governo italiano sottrarsi, disertare l'appuntamento a cui invece il Governo francese e persino il Governo tedesco si stanno presentando chiedendo Tobin Tax, cioè chiedendo la tassazione delle rendite? E vorrei porre un'altra domanda a questo Governo che gira continuamente a vuoto sul tema della crescita. Si può ovviamente immaginare la persistenza dei vincoli del patto di stabilità sulla spesa corrente, ma è possibile continuare a bloccare la nascita dei cantieri, la possibilità di offrire posti di lavoro lasciando i vincoli del patto di stabilità sulla spesa per investimenti? È una domanda molto semplice. Noi abbiamo bisogno di distinguere quello che è il costo della pubblica amministrazione con tutto ciò che è invece la dinamica dell'apertura dei cantieri. In Italia si parla di crescita, ma contemporaneamente con il mito rigorista del patto di stabilità si strozza l'economia reale. Chiedo al Governo italiano se non si è aggiunto il tempo di alleviare in maniera significativa i vincoli del patto come richiesto dagli amministratori di tutto il Paese. Penso di dover ottenere una risposta perché altrimenti parlare di crescita è una retorica ed è anche un po' una provocazione nei confronti del Paese che sta scivolando verso la decrescita, verso la povertà, verso la disoccupazione di massa. Grazie. Grazie.